Roberto Fornoni di Ardesio nei prossimi giorni sarà protagonista del campionato del mondo Timbersports per intenderci il campionato del mondo dei boscaioli che si svolgerà a Stoccarda in Germania. Come è nata questa avventura? Tutto è nato nel 2013 grazie a Battista che è qui con me e che ci ha coinvolto in questa avventura che così per curiosità volevamo portare questo evento qua in Valseriana, questo sport e poi tra una prova e l'altra ci hanno coinvolto e abbiamo cominciato a appassionarsi, abbiamo cominciato a far parte di questo gruppo e allenarci e fare gare. Appunto gare, ci sono diversi campionati, un campionato italiano quest'anno ti ha dato il diritto di andare in Germania, spiegaci un po' com'è andata. Sì, quest'anno è stato abbastanza soddisfacente in quanto mi sono classificato terzo e quindi di diritto posso far parte del team Italia che gareggerà appunto a Stoccarda e niente, sono contento di come si è svolto questo campionato. Come si svolge una gara? Una gara si svolge solitamente in sei discipline dove l'atleta parte diciamo con la motosega, una motosega normale non elaborata, una normale 6-6-1 della Steel. Poi ci sono altre discipline con l'ascia, altre tre discipline con l'ascia, c'è l'underhand che è praticamente un ciocco di 32 centimetri che posto sotto i piedi l'atleta deve essere spezzato se una parte all'altra con l'ascia. Lo standing che è appunto un ciocco di 30 centimetri posto verticalmente e questo deve simulare un abbattimento di una pianta e sempre da una parte e dall'altra sempre con l'ascia. Poi c'è lo springboard che è un tronco di 2,70 metri circa e l'atleta deve riuscire con l'ascia a cercare di fare delle tasche, cosiddette tasche pocket e inserire delle tavole per salire su questo tronco dove in cima c'è un altro ciocco di 27 centimetri che deve essere abbattuto. Poi c'è il single back che è un segone per interderci il nostro party tour, un segone circa 2 metri che l'atleta deve usare singolarmente però nel nostro caso e deve tagliare una fetta di 46 centimetri e poi c'è la hot show che è una motosega elaborata che è due e mezzo, due tempi e ha 60 cavalli di potenza. Battista questo approdo al campionato del mondo è un po' anche merito tuo? Ma diciamo che Roberto quest'anno è andato fortissimo proprio perché in due o tre anni abbiamo fatto un duro lavoro di allenamento e molte gare e quindi ci siamo contento. Come si svolge un mondiale? Il mondiale si svolge in due prove, una squadre e una singolo, cioè ogni campione di ogni nazione si confronta per decretare il numero uno del mondo, mentre le squadre penso che siano ancora 23 nazioni e quindi giovedì i grobi e gli altri che formano il team Italia faranno la gara per la qualifica del venerdì. Le migliori 14 si affronteranno venerdì per decretare la numero uno e in pole position ci sono l'Australia, la Nuova Zelanda e l'America. Roberto che risultato Miri? Ma noi pensiamo... Noi vorremmo migliorare il risultato che è stato a Eastbrook nel 2014, che è stato il mio risultato fatto all'Italia, un decimo posto, però vediamo quello che arriva, speriamo bene.